new entry al grande fratello vip 2021 le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sono state confermate da alessandro rosica noto sui social network come investigatore social che ha svelato anche quando avverranno questi due nuovi grotti di chi stiamo parlando di alessandro rossi il fidanzato di francesca cipriani e di antonella fiordelisi ex fiamma di francesco chiofalo è solo questione di giorni alessandro rossi sta per entrare al grande fratello vip il ragazzo ha già fatto visita alla fidanzata francesca cipriani qualche tempo fa ma ora è pronto a diventare un concorrente pro tempore stando a quanto spifferato da rosica infatti rossi resterà solo per qualche settimana nel boom l'ingresso di alessandro rossi a quanto pare è previsto per venerdì 22 ottobre nel corso della nuova puntata del programma mediaset classe 1991 alessandro rossi è un costruttore edile e arredatore d'interno è diventato noto come compagno di francesca cipriani conosciuta durante una cena con amici in comune rossi ha corteggiato a lungo francesca fino a quando non è riuscito a conquistarla del tutto sarà invece una concorrente del grande fratello vip a tutti gli effetti antonella fiordelisi sembra che la sua entrata sia prevista per le prime settimane di novembre l'ingresso dell'ex spadista 23 n è stato spoilerato pure da sofico de goni che agli altri concorrenti ha anticipato l'ingresso della modella influencer l'ex tronista di uomini e donne è stata a cena con antonella prima di entrare al grande fratello vip e ha preso dell'arrivo della fiordelisi nel format di canale 5 la fiordelisi è stata vista di recente a scherzi a parte ma nel suo curriculum ha delle partecipazioni anche a temptation island e uomini e donne per due anni è stata legata a francesco chiofalo il famoso lenticchio di temptation island ma in passato ha avuto dei flirt con ignazio moser e gonzalo iguain qualche mese fa è stata paparazza con carlos corona il figlio diciottenne di fabrizio e nina